Problemi nel comune di Alba con via vari di assessori. La città avvia un piano per la mobilità. Scatrono i blocchi per le auto. Il Festival sull'Economia Circolare riconosce all'Italia il primato. Annunciato una fiera del Tartufo più attenta alla natura. L'area UNESCO è la meta sognata dei turisti europei. Si progetta il Museo del Tartufo e si discute sulla gestione delle manifestazioni. Storia di Remo, dal Piemonte in Brasile dove produce vino. 8.000 abbadanti nel Cunese e cresce il numero delle italiane. Piero Simondo e gli artisti libri in una mostra ad Alba. Profondo Umano, il Festival Filosofico propone Repetto e Denzo Bianchi. Bilancio positivo per la tredicesima edizione di Cisabra. Lista ai programmi dei dieci centri dove si vota. Sulla sinistra Tana erano 12 comuni per la tutela delle rocche. Si riscopre la terracotta per conservare il vino. Questa e tant'altra notizia su Gazzetta d'Alba. Ne dico le online dal martedì.